Ok, allora in questa seconda parte vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa di più quindi questa abbiamo visto che è la tavolozza elementare, quella che può usare anche il guest l'altra, quella sofisticata, il guest non la può usare, quindi per il momento la dimentichiamo andiamo invece a vedere qua, vedete in alto a sinistra, abbiamo un cellulare dove ci dà degli avvertimenti e un altoparlante con cui si può nel caso cliccare per disabilitare eventualmente la musica quindi qui abbiamo il cellulare che ci permetterà di navigare e fare tutte le nostre cose e poi qua in basso vedete che abbiamo un po' di cose, quindi possiamo, abbiamo una chat locale che possiamo ampliare e poi qui possiamo parlare nel modo normale, quindi possiamo dire qualcosa e quello che diciamo ci compare sopra la nostra testa ora abbiamo già visto che possiamo muoverci cliccando per terra e facendo un po' di cose e vediamo ora se riusciamo anche a fare qualcosa di più proviamo a vedere se riusciamo a cambiare la nostra apparenza clicchiamo sul cellulare e andiamo, dove andiamo? sul... quindi in build non possiamo andare ero convinto di averlo qua, però mi sembra che andrà facendo O ecco, O outfit, ecco, non l'avevo ritrovato perché outfit con O entriamo nell'outfit quindi ci possiamo vedere come ci vedono gli altri e poi possiamo vederci in bassa risoluzione oppure in alta risoluzione vedete che in alta risoluzione compare anche in questo caso gli occhiali invece in bassa risoluzione no ma comunque questo era solo per... qui possiamo cambiarci tutto un po' come in second life quindi possiamo avere degli outfit ce n'è uno solo e possiamo creare degli altri ad esempio, possiamo cambiare la shape e qui possiamo fare un po' quello che facevamo in second life diventare più alti più grassi più muscolosi insomma tutte queste cose qua che... e via discorrendo adesso non stiamo poi lì a vederle tutte possiamo cambiarci varie cose dunque un po' customize cosa si dice ok, il colore della pelle quindi possiamo ad esempio diventare con la pelle chiara possiamo scegliere tutti i colori insomma di tutto quello che vogliamo qui la testa insomma qui altre cose questo qui è il il golf cap serve il cappellino da golf che abbiamo e vedete che c'è qualcosa di rosso qualcosa di blu e qualcosa di grigio quindi se vogliamo cambiarlo ad esempio le parti grigie o il papiglion sopra se invece di rosso lo vogliamo fare giallo eccolo qua oppure possiamo anche decidere di non intervenire quindi cliccando qua la customizzazione viene disabilitata queste qui sono tutte le customizzazioni di tutti gli oggetti che indosso e quindi ci sono un po' di cose su cui possiamo agire quindi questa è la maglietta i pantaloni e anche le scarpe vedete che è una cosa abbastanza bella perché non è difficilissimo se riesce a fare un bel po' di cose anche il corpo il corpo che abbiamo serve un po' forse l'equivalente della skin vedete che ne abbiamo uno solo di corpo poi probabilmente se ne possono comprare altri sul marketplace attualmente abbiamo solo questo quindi se otteniamo la testa abbiamo un solo tipo di testa possiamo però personalizzarla abbiamo top sarebbero la parte di sopra quindi noi stiamo indossando questo maglione qui possiamo indossare altri tipi di vestiario quindi se io clicco così vedete che mi indosso e mi cambio la mia camicia o quello che è e posso fare la stessa cosa con la parte di sotto il bottom e quindi posso cambiare e prendere questi altri pantaloni vedete insomma ci sono tutte le varie possibilità quindi abbiamo il top il bottom le scarpe se volessi quindi possiamo metterci in ciabatte o come adesso abbiamo le scarpe da ginnastica o gli stivaletti possiamo metterci gli stivali e direte che posso questi sono stivali da cowboy accessori e te sono i cappelli che indosso quindi posso mettermi cambiarmi il no accessori adesso c'ho a dire il vero horn rimmed che sono gli occhiali se io ah no però c'ho anche questo indossato golf cap quindi se io mi tolco il cappello con la X vedete che non c'ho più i cappelli e se io mi tolgo anche gli occhiali horn rimmed via ah no gli occhiali sono quelli possiamo fare eccolo qua così abbiamo intervenuti anche sugli accessori i capelli li posso anche modificare quindi posso per esempio avere i cappelli fatti così vediamo se ci sono capelli più o meno normali questi sono quelli afro quindi posso controllare il colore dei cappelli e via discorrendo quindi sono i capelli full mi fa vedere dei completi che posso eventualmente vestire sequencer sono delle operazioni che io posso fare quindi couch ad esempio è un'operazione che permette di accucciarmi quindi sono un po' l'equivalente delle gesture così come i movement controllano come io posso volare se posso volare quindi se io ad esempio il default che è attualmente adesso mi prometto di volare vedremo altrimenti posso volare con le ali oppure no quindi se noi mettiamo il default e poi usciamo da questa modalità eccoci qua allora andiamo un po' qua per volare bisogna premere la barra spaziatrice quindi premo la barra spaziatrice vedete che se la tengo premuto continuo a saltare ma se io faccio barra barra e poi tengo premuto vedete che entro in volo e a questo punto posso volare vedete che volo quindi bisogna prendere confidenza con questa modalità di volo quando voglio atterrare tra l'altro mi muovo con le freccine esattamente come sopra quando voglio atterrare faccio Z e torno a terra se torniamo nelle modalità di volo abbiamo il winged fly questo clicchiamo X oppure O per tornare qua proviamo a volare con le ali quindi per fare due volte e poi tenere premuto ok e vedete che se mi vedo lontano mi ha creato delle ali quando volo quindi in questo modo praticamente io ho esercitato un po' delle cose basi quindi mi sono vestito mi sono scelto un po' come voglio esserci la mia apparenza questa è una cosa molto importante nei mondi virtuali andiamo ora a vedere come andiamo facciamo a navigare allora prima cosa per navigare si può navigare andando semplicemente in cielo e vedendo i posti blazing ranch 4 likes quindi probabilmente bellino questo qua è the grid sud west 15 likes quindi deve essere ancora più bello lovely path 15 likes qui c'è studio overbox mi dice che c'è un utente e mi dice anche quando l'ho già visitato questo posto e qui vedete che sono degli omini mi dicono quanto è abitato quindi io posso navigare o cercando in cielo quindi andando a vedere queste cose qua ok shiny bay clicchiamo su shiny bay mi fa vedere i vari posti sono case di qualcuno tipo fritz homo clicco su go e dopo un attimo di tempo mi fa il teleport verso quel mondo aspettiamo con un attimo di pazienza vedete che quando mi teleporto mi compare sempre l'indicazione di quanti oggetti mancano devono essere ancora caricati per poter entrare nel posto più un oggetto è ricco di componenti tridimensionali e più ci impiega un pochino ad entrare ricordate sempre che il posto in cui siete è definito da queste coordinate che vi trovate in alto oh ecco arrivati allora noi siamo arrivati in questo indirizzo questo indirizzo indica praticamente questo la sim questo è l'indirizzo x, y, z e meno 1.4 indica la rotazione in cui siete e qui vedete che già questo posto è interessante perché ci sono già dei bot che poi sono degli sono delle persone non giocanti qui fanno già delle loro attività vedete che qui c'è un'animazione molte di queste cose sono comprabili ad esempio se io voglio avere uno di queste cose basta che lo clicco e cliccando vedendolo dunque dovrebbe comprarlo no qui ci sono varie cose che adesso forse ah si ecco questo qui praticamente mi ha fatto vedere l'oggetto da comprare che posso comprare adesso questi sono se volessi comprarlo faccio essendo 0cc 0cc vuol dire che è gratis e quindi la posso comprare posso anche fare una preview degli oggetti magari tanto per dire vediamo se abbiamo qualcosa per uomo così magari proviamo anche indossarlo non mi sembra visto di qua comunque proviamo a fare un acquisto tipo free vehicle share quindi questo probabilmente non mi fa comprare le cose che necessitano di soldi perché devo fare la registrazione comunque supponiamo di prenderne uno gratuito questo lo compriamo possiamo fare il preview di come appare quindi questa è praticamente una testa la posso comprare per 0 quando compro degli oggetti in questo modo mi compaiono nel mio inventory come faccio ad accedere al mio inventory in mio inventory allora lo posso vedere fondamentalmente da da qua qui ci sono tutti gli oggetti posso aprire qua open library e qui ci sono tutti gli oggetti di cui sono proprietario e vedete che fra le cose tanto tra le tante cose di cui sono proprietario dovrebbe in teoria esserci anche quello non lo vedo perché probabilmente non è un prefabbricato quindi per vederlo probabilmente devo andare perché quello sarà un outfit quindi andiamo negli outfit e sarà un top credo no? sarà un head spero che era un testo non l'avevamo visto no neanche allora diciamo che nella modalità guest questo tipo di operazioni sono molto limitate quindi nel prossimo tutorial vedremo invece la modalità build vera e propria che come vedremo è molto molto importante e permette di fare molte più cose ok arrivederci grazie a tutti